Il mistero dell'acqua che fuoriesce dai muri nella zona compresa tra il rione Marcoscerra e piazza San Rocco. Nel centro basentano si ripropone l'allarme per le infiltrazioni di acqua che potrebbe rominare la stabilità di un intero quartiere e della chiesa di San Rocco, chiusa ormai da più di due anni a causa della sua acclarata instabilità. La storia è nota, la zona è interessata da infiltrazioni di acqua che preoccupano per la stabilità di quella parte dell'abitato. Se la chiesa di San Rocco è chiusa dal dicembre del 2012 su ordinanza del sindaco di Pisticci Vito di Trani, in quanto interessata dai videnti problemi di ordine statico, nella cappella attigua ricavata nella ex sede del comitato feste patronali, la situazione non è delle migliori. In una grotta collocata esattamente tra la chiesa e la cappella, infatti, dai muri continua a far uscire acqua. Non è ancora chiaro se si tratti di acqua proveniente dalla fogna, come pure qualcuno continua a sostenere, oppure di acqua piovana che si infiltra dalla strada soprastante e, poco alla volta, filtra nei muri. Poco concreta l'ipotesi che possa anche trattarsi di acqua sorgiva. Una delle teorie che qualcuno ha cavalcato in questi ultimi tempi, infatti, avalla l'ipotesi che in questa zona di Pisticci confluirebbero ben tre corsi d'acqua. Uno proveniente dal vicino ed attiguo rione Marcoscerra, l'altro che scenderebbe da Corso Margherita ed un terzo, appunto, frutto di una fonte sorgiva. In realtà non c'è assolutamente alcuna certezza su cosa stia accadendo nelle viscere del sottosuolo di questa zona di Pisticci. Quello che è certo, però, è che ci sono queste fuoriuscite di acqua. Lo scorso mercoledì mattina c'è stato un sopralluogo congiunto al quale hanno partecipato i tecnici del comune e quelli di Acquedotto Lucano, presente anche il vice sindaco di Pisticci, Domenico Albano. Gli uni e gli altri hanno potuto verificare come la presenza di acqua nella grotta sia più che concreta. Resta solo da capire la causa di questa insolita e preoccupante infiltrazione. Le parti hanno convenuto per le vie brevi che verranno effettuati esami più approfonditi ad iniziare da una verifica con strumenti particolari delle condotte di Acquedotto Lucano e, in base agli esiti, di procedere a successive e più dettagliate indagini. Il problema, va ricordato, non riguarda solo la chiesa di San Rocco e la Cappella Tigua. Anche alcuni esercizi commerciali vicini, infatti, lamentano infiltrazioni di acqua.